Ciao ragazzi, ciao ragazze, oggi vi presento il libro illustrato Un topo tutto per me, scritto da Ornella Pozzolo e illustrato da Cristiana Cerretti, edito da Coccole Books. Nell'Italia del dopoguerra, Nina, otto anni, trascorre un'estate felice nella casa bestiale della nonna. Mauthausen, un meticcio che vomita sulla corriera e caccia i topi. Camillo, il gatto che mangia la trippa del giovedì. Dieci galline viziate e un amatissimo topo. Ricordo ancora quando le bimmano, tutto roseo, tiepido, tremante, decisi che me lo aveva portato Gesù bambino e dopo un esame a pancia in su capì che era femmina e la chiamai Eleonora. Per scoprire cosa succede a Nina e a tutti questi animali dovete leggere il libro Un topo tutto per me, scritto da Ornella Pozzolo e illustrato da Cristiana Cerretti, edito da Coccole Books.